Cari amici, come avete notato, è un po' di tempo che non rispondo alle inutili provocazioni di Don Tullio Rotondo, perché tanto Nomen omen gira sempre in tondo. Avevamo detto tempo fa, eravamo convenuti sul fatto che il libro di Monsignor Genswein, pubblicato dopo la morte del Santo Padre, senza l'autorizzazione del Santo Padre, è un libro non credibile, è stato contestato da Gotti tedeschi, da Luciano Canforo, lo stesso Marco Tosatti ha detto che è un libro scritto secondo paradigmi che noi non conosciamo, lo stesso Genswein lo voleva ritirare, eppure Don Tullio Rotondo adesso ha ripreso a dire che in questo volume Genswein sostiene che Papa Benedetto avesse sempre celebrato in comunione con Francesco, quindi ormai non vale più la pena. C'è stato un momento in cui con Don Tullio ci si divertiva, adesso non mi diverto più. Devo però raccogliere la provocazione del suo ultimo video in cui lui tira fuori fra le fonti un sacerdote che avrebbe testimoniato di aver visto Papa Benedetto celebrare la messa in comunione con Papa Francesco. E sapete da dove trae questa fonte molto attendibile? E dal sito l'isola di Patmos dell'ineffabile Ariel Levi di Gualdo, presbitero. Allora, adesso ripercorriamo un po' quella vicenda grottesca. A me, francamente, non mi sarebbe... non avrei avuto voglia di ritirare fuori questa storia perché è abbastanza patetica. Però poi ti provocano e quindi ti ci tirano dentro con le tenaglie. Ecco, allora dovete sapere che ai primi di novembre scorso Don Minutella riceve una lettera, una lettera su carta intestata di Monsignor Genswein in doppia copia, datata 11 ottobre 2022. La doppia copia è perché sia in italiano che in tedesco. Allora, la leggiamo insieme. «Illustrissimo signor Minutella, facendo seguito alla vostra lettera del 6 agosto corrente anno, si informa lei e gli altri firmatai che il Papa Emerito è addolorato nell'apprendere che dei presbiteri celebrano la Santa Mesa in unione con il nostro Papa Benedetto». Perché sapete benissimo che il Papa Chedo Minutella è sempre celebrato in unione con il Papa Benedetto. Continua questa lettera del presunto Monsignor Genswein. «Il Papa Emerito ha sempre celebrato la Santa Messa in unione con il nostro Papa Francesco, suo successore, al quale ha promesso pubblicamente devota e incondizionata obbedienza. Lei è in grave errore, come prova la pena della dismissione dallo Stato clericale che le è stata erogata e che la Chiesa molto raramente infligge. Il Santo Padre Emerito assicura preghiere per il suo ravvedimento». «Bene, parlo con Domi Nutella e gli chiedo «Ma padre, ma questa lettera è firmata a penna?» E lui mi dice «Sì, effettivamente, pare essere firmata a penna, eccetera, eccetera». «Allora, io chiedo a Don Alessandro di mandarmi tutto il materiale, non solo i fogli, ma anche la busta fronte-retro e vediamo che è una raccomandata spedita dalla posta del Vaticano. Benissimo. Già questo è abbastanza strano perché non me lo vedo Monsignor Genswain ad andare con la bustarella in mano alle poste vaticane a imbucare, anche perché io ho ricevuto una lettera da Monsignor Genswain che scrive su busta in franchigia della Segreteria di Stato e certo non si mette ad andare a imbucare le lettere alla posta vaticana. E infatti questa storia mi ha già subito colpito in modo negativo questa faccenda della raccomandata dalle poste vaticane. Ma poi la cosa plateale è che il mittente è un SG.p00 Città del Vaticano Italy. Già, Città del Vaticano Italy? Che cosa vuol dire? Città del Vaticano è uno Stato, no? Che cosa è Italy? Quindi questo SG.p. mi è apparso subito immediatamente una grossolana falsificazione. Grossolana e causata dal fatto che qualcuno che andava a imbucare una lettera raccomandata alle poste vaticane indirizzata al famosissimo Don Minutella su una carta, su una busta non intestata in franchigia della Segreteria di Stato a nome di Monsignor Genswain probabilmente l'impiegato non se la sarebbe bevuta avrebbe chiamato in Segreteria di Stato avrebbe chiesto conferme ma è vero che Monsignor Genswain ha scritto una lettera a Don Minutella no, perché la busta non mi convince eccetera e invece con SG.p. poteva essere il signor Peretti un signor Peretti qualsiasi e infatti l'impiegato non ha fatto difficoltà e ha inviato questa lettera a Don Minutella allora io scrivo un articolo su Roma Hit dicendo guardate è un falso chiaramente falsificato per via di questo omittente ridicolo quindi lasciate perdere e subito si scatenano gli unacum il radiospadista Pier Giorgio Seveso fa alcuni divertiti commenti su Twitter capiamo che Minutella zoppichi in teologia ma almeno tolga il maiuscolo dalla tastiera e lasci stare le cose serie tipo i Santi stavamo solo facendoci qualche risata per l'ennesima arrampicata sugli specchi ora manca solo l'apparizione indiretta dello spirito di padre Georg ancora Pier Giorgio Seveso il Neomodernista 1 scrive all'ammiratore del Neomodernista 2 che quest'ultimo obbedisce incondizionatamente al Neomodernista 3 che ha indotto l'ammiratore suddetto allo stato laicale titolo la baia dei pattumi o la baia del pattume quindi Pier Giorgio Seveso ha definito Don Minutella Monsignor Genswain e Papa Benedetto come appartenenti alla baia del pattume e poi c'è anche Don Tullio Rotondo ecco la lettera completa che mi pare del tutto autentica eh bravo Don Tullio inviata da Monsignor Genswain a Don Minutella al di là dell'autenticità dice comunque la pura verità certo come no e infatti mentre su Aleteia Giovanni Marco Tullio mi chiama lo scrivano di Don Minutella lo scribacchino di Don Minutella il complottista che vuole negare l'evidenza tracchete arriva la dichiarazione di Monsignor Genswain che su cat.net come riporta Marco Tosatti dà delle risposte molto ferme sulla questione dicendo la lettera è un falso è una menzogna fake news pure e semplici allora la lettera è un falso d'accordo cioè la lettera è un documento falso benissimo ma se dice è una menzogna e se dice che è una fake news pura e semplice pura e semplice vuol dire che non c'è niente di vero vuol dire che anche il contenuto non è vero e quindi e quindi ritorniamo alla lettera il Papa Emerito non è affatto addolorato nell'apprendere che dei preti celebrano la messa in unione con Papa Benedetto il Papa Emerito non ha mai celebrato la messa in unione con il nostro Papa Francesco e non gli ha mai promesso pubblicamente devota e incondizionata obbedienza infatti non ha mai promesso a Bergoglio nulla perché lui disse prometto obbedienza e reverenza al mio successore illegittimo il 28 febbraio molto prima che Bergoglio venisse eletto quindi non è vero che Domi Nutella è in grave errore e non è vero che ha ricevuto la dismissione dallo Stato laicale e quindi non è certo vero che il Papa Emerito pregava per il suo ravvedimento per il ravvedimento di Domi Nutella vedete queste sono menzogne eppure fake news lo dice Monsignor Gheswain non lo dice il sottoscritto poi mentre diciamo questa querelle prendeva piede che cosa succede? succede che Don Ariel Levi di Gualdo sul sito l'isola di Patmos triunfalmente esibisce i pdf di queste due lettere che lui dice di aver ricevuto da una fonte di cui non avrebbe mai rivelato il nome ora dovete sapere che i normoragionanti cionciani hanno un grosso difetto che non hanno mandato il cervello all'ammasso e quindi hanno capito subito la questione tant'è che si scaricano i pdf dal sito l'isola di Patmos di Don Ariel Levi di Gualdo trasformano il pdf in un jpeg lavorano un pochino con i contrasti e viene fuori la patetica verità cioè che lo stemma della carta da lettere è stato scaricato da internet e anche la firma è stata scaricata da internet tra l'altro per diversificare leggermente le due firme è che la firma di Genswein è stata scaricata da internet da una sua lettera del 2014 perché i normoragionanti hanno trovato anche l'originale della firma e per diversificarle sono state differenziate in questo modo una è stata inclinata un pochino forse leggermente ingrandita e l'altra ha ricevuto i puntini della della dieresi dell'umlaut sono stati leggermente spostati addirittura ha un ha un ingrandimento si vede che l'ultimo puntino è stato accostato a quello della dieresi ma non finisce qui non finisce qui perché i perfidi normoragionanti cionciani che cosa fanno vanno sul pdf scaricato dal sito di donari e levi di Gualdo vanno su proprietà e trovano che il pdf è stato creato con una licenza word intestata a nome di Ariel S. Levi di Gualdo presbitero a questo punto vi chiederete beh allora sicuramente Ariel Levi di Gualdo avrà negato tutto avrà detto che c'era stata un'intrusione hacker avrà detto che avrà detto che gli avevano rubato i computer che lui non ne sapeva niente avrà preso le distanze da qualsiasi attribuzione di questa falsa lettera di Monsignor Genswain ed ecco cosa scrive su facebook a un signore che gli contesta però Don Ariel che vergogna la falsa lettera di Monsignor Genswain e lui risponde ci sono falsi cattivi e falsi buoni menzogne buone e menzogne cattive violenze verbali buone e violenze verbali cattive insulti buoni e insulti cattivi non le pare? ecco cari normo catechizzati che avete fatto alla prima comunione vi sembra di ricordare che il catechismo ammettesse insulti buoni menzogne buone violenze buone violenze verbali buone francamente la cosa mi giunge nuova ora questo è un reato penale e quindi io dico a tutti quelli interessati non mi provocate non mi provocate perché io non sono andato avanti su questa storia lasciatemi perdere lasciatemi perdere perché dopo mi nervosisco sul serio qui c'è una condanna penale si pagano un sacco di soldi e mi pare che ci stanno pure un paio d'anni di galera perché è falso in atto pubblico falsificazione adesso non mi ricordo esattamente quali articoli del codice penale vengono tirati in ballo allora questo per dire che le fonti che sta utilizzando Don Tullio Rotondo sono le fonti che cita questo personaggio che si è visto benissimo con una licenza award intitolata a suo nome sono state prodotte le false lettere di Genswein indirizzate a Don Minutella si è visto benissimo che Genswein ha negato in modo totale il contenuto di queste lettere e il contenuto di queste lettere diceva appunto che Papa Benedetto celebrava in comunione con con Papa Francesco e che era molto arrabbiato e dispiaciuto per per quello che stava facendo Don Minutella ecco cari amici cari amici queste sono le fonti che cita Don Tullio Rotondo e poi dice che il dottor Cionci sparge falsità vi avverto non tirate la corda più di tanto perché poi poi Cionci diventa si rigidisce e quando Cionci si rigidisce sono dolori perché qui c'è un reato penale c'è un sacerdote che continua ad accusarmi di dire falsità di essere un menzognero di plagiare le menti di portare le strade sulla perdizione eccetera non tirate troppo la corda cari amici mi permetto di rivolgere un ringraziamento a tutti i normoragionanti che a suo tempo hanno lavorato su questa grottesca vicenda della falsa lettera di Monsignor Genswein vi ricordo le conferenze dell'8 a Torino del 9 a Ferrara del 10 a Modena il 16 a Lucca il 17 a Genova il 23 a Roma grazie a tutti coloro che stanno sostenendo questo canale sempre attivo tutti i giorni devo dire con un certo sacrificio da parte mia un caro saluto a tutti di Monsignor sempre a gehabt di Monsignor il 20 ore di Monsignor di Monsignor il 18